Il primo impatto non l'avevamo neanche noi capito, l'entità di questa cosa. Spiazzatissimi perché non sapevamo che cosa fare, però dalla prima all'ultima io penso di aver seguito tutte le dirette possibili e immaginabili, tutte, tutte, tutte. Le guardavo indifferite, le studiavo, tutto quello che c'era da fare, non ho mai studiato così tanto. È stato molto impegnativo. Bene ragazzi, benvenuti in questa nuovissima intervista di Casa Richfit. Se è la prima volta che atterri su questo canale, io sono Anneli Pianelli, cofondatore del sistema Richfit e oggi avremo con noi un ospite, due ospiti in realtà straordinari, che vengono direttamente da Pesaro nelle Marche e andiamo a vedere cosa è accaduto proprio in questo periodo. Abbiamo con noi Andrea e Roberta e andremo a conoscerli più da vicino per capire cosa sia successo e che cosa stiano facendo questi imprenditori, nonostante i blocchi forzati e nonostante quello che stiamo vivendo un po' ovunque. Intanto, ben arrivati cari, buongiorno, ben arrivati. Ciao, grazie. Allora, innanzitutto vi chiedo velocissimamente anche di presentarci per conoscerci un po' meglio. Raccontatemi un po' la vostra storia e dove si trova anche il vostro club. Che cosa fate, insomma? Allora, ovviamente siamo Roberta, sono io, Andrea e lui, nel caso non si è capito. Siamo a Pesaro, siamo nelle Marche, abbiamo un club più o meno di 420 quadrati, corregimi se sbaglio. Il nostro core business è più orientato nei corsi di gruppo musicali, quindi esattamente musicali e non, non esattamente quelli che in questo momento sono banditi. E dal lockdown in poi abbiamo implementato con tutta una parte nuova che è più sul small group e sui percorsi personalizzati più comunemente conosciuti come personal trainer, ma volutamente non abbiamo chiamato personal trainer come i nostri maestri ci insegnano. Siamo in questo ridente paesino vicino al mare, quindi c'è anche molto turismo, turismo locale che comporterebbe il d'estate, io non m'alleno, quindi in realtà stiamo molto lavorando anche su questo fatto e in questo momento siamo in zona rossa, quindi come tutti sapete... Diciamo che non ci facciamo mancare niente. Niente, niente. Allora, innanzitutto, chiaramente appunto viviamo questo periodo e ormai lo viviamo così, anche sul sorriso sulle labbra, quando diciamo zona rossa, ormai è diventato qualcosa di assolutamente normale, anche perché abbiamo, da parte nostra, ecco, nonostante tutto abbiamo imparato a conviverci, anche se lì fuori il mondo si è dimenticato di noi, siamo noi a non esserci dimenticati di noi stessi, quindi intanto si va appunto e si procede, si va sempre avanti. Ragazzi, innanzitutto, quando è arrivata questa batosta, questo virus e quindi poi le conseguenti chiusure, tutti i blocchi forzati che sono arrivati e questo continuo singhiozzo apre e chiudi, innanzitutto come lo avete vissuto e qual è stata la prima impressione, il primo impatto? Vabbè, il primo impatto penso che una gran parte delle persone non avevamo neanche noi capito l'entità di questa cosa, spiazzatissimi perché non sapevamo che cosa fare, però dalla prima all'ultima io penso di aver seguito tutte le dirette possibili e immaginabili, tutte, 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 le guardavo indifferite, le studiavo, tutto quello che c'era da fare, non ho mai studiato così tanto, quindi è stato molto, molto, molto impegnativo e ci siamo anche noi arrabbattati con le prime dirette, allenavamo solo io e Andrea perché tutto il resto dello staff era a casa e non, incluso noi ovviamente, però non volevamo dare l'impressione dell'istruttore in pigiama, tutto un po' sconquassato, che non conosce la telecamera, non sa come, abbiamo cercato di fare una cosa più professionale e è stato molto impegnativo, quindi duro. Siamo arrivati d'està? Dai, vai, vai, scusami. Siamo arrivati d'està? Non ho mai studiato così tanto, è evidente che ti ha posto, vi ha posto a un livello già diverso, cioè avete deciso immediatamente di agire, reagire a quello che era chiaramente una situazione che ha colto, credo, un po' tutto il mondo intero alla sprovvista, quindi vi siete ritrovati davanti a un ostacolo che era un macigno gigante, ostacolo che ancora oggi è lì davanti, nessuno può nascondere il fatto che a oggi, marzo 2021, appunto quasi tutta Italia si arrossa e quindi che ci siano blocchi forzati. Poi la seconda cosa, appunto, eravamo forti sulla cosa che il virus non vuole, o meglio tutto quello che ne consegue, quindi appunto le attività di gruppo, il fatto di stare insieme, il fatto di godere in più persone, eccetera, eccetera, quindi nel tuo caso lo stravolgimento è stato praticamente abissale, avete cambiato totalmente tutto quello che c'era da fare e invece i clienti, proprio questa prima parte, quando tu hai detto abbiamo iniziato ad impegnarci a stare dietro e a dare anche quelli che sono appunto le nostre lezioni online nel primo blocco, chiaramente quando eravamo proprio tutti i soldati a casa, i clienti come hanno raggiunto? Allora, sicuramente all'inizio erano spiazzatissime anche loro, un sacco di chiamate, aiuto, aiuto proprio come faremo, cosa farete, come ci aiutate, quindi questa cosa ci ha sicuramente spronato perché ci siamo un pochino sentiti responsabili e non volevamo metterci anche noi a piangere, nel senso, oddio, è vero, siamo in situazione di merda, si può dire di merda in diretta, quindi da lì ci siamo fatti ancora più stimolare da questa cosa, ci pensiamo noi, il primo blocco ovviamente senza le attrezzature, quindi abbiamo fatto fare un salto enorme al corpo libero, per esempio, che poi tra l'altro l'abbiamo anche portato in palestra, quando abbiamo avuto quella breve finestra in cui ci hanno fatto aprire, con i corsi a corpo libero perché avevano avuto un gran successo. Quindi è stata anche occasione per poter sperimentare nel tuo caso qualcosa di diverso alla fine. Sì. Poi è arrivato anche il secondo blocco, il secondo blocco che è stato credo il peggiore, almeno questo è quello che ho sentito un po' da tutti. Voi come l'avete vissuto il secondo, la seconda ondata? Ondata chiaramente non parlo di virus, in questo caso parliamo di chiusure delle palestre. La seconda ondata, com'è stata la seconda chiusura? Allora, grazie alla preparazione, vissuta decisamente meglio, quindi lo staff super preparato, abbiamo deciso di far continuare a pieno ritmo il commerciale, abbiamo anche assunto due figure nuove, avevamo bisogno di, visto che il tecnico si poteva lavorare diversamente con l'online, con YouTube, non potendo vedere le persone e approfittare di vederle, organizzare i vari appuntamenti e quant'altro, abbiamo sentito una necessità invece di impolpire il ramo commerciale e molto anche il ramo social, quindi lavorare molto anche su quello. Ci ha portato un terzo della clientela ad allenarsi e gli altri due terzi per la prima parte li abbiamo chiamati ma lasciati un po' dove erano, in seguito poi all'incontro con Max abbiamo capito che potevamo tenerli un pochino più sotto controllo offrendogli dei canali gratis, gratuiti, quindi un po' di coaching che abbiamo fatto online per sapere anche attraverso delle chiamate appunto commerciali cosa stai facendo, come stai vivendo questo momento, che ne dici di approfittare con questi appuntamenti gratuiti dove qualcosina ti diamo, che così li teniamo sotto un'area protettiva, perché per evitare che magari nella noia, nel non so cosa fare, vadano in cerca di altre cose e scoprono magari altre attività e quindi li teniamo un pochino sotto controllo. Diciamo una cosa secondo me importante, se c'è una cosa positiva che ha fatto emergere tutta questa situazione, dal primo al secondo poi lockdown, è che tutte quelle che erano idee che dovevamo mettere in campo, che magari ci sarebbero voluti due anni per portare in campo determinati prodotti, ci hanno dato in realtà una grande spinta perché col secondo lockdown era già tutto consolidato, noi il giorno dopo eravamo già online per dare tutto il servizio ai clienti, quindi non si è fermata la macchina diciamo. Contestualmente abbiamo cominciato concretamente a mettere sul tavolo quelli che erano progetti per creare dei prodotti e correlati a quello che erano già i corsi, perché poi a distanza di quattro mesi come oggi i corsi possono anche non essere più sufficienti, ma le persone sono anche stanche a casa, tra il soggiorno, il tavolino, il cane, il marito, i figli, è difficile anche per le persone, quindi poter creare delle alternative li ha messi in condizione anche di fare delle altre scelte e questo lockdown ci ha dato questa spinta, no? A concretizzare quelle che erano, ma potremmo fare, un giorno vedremo, faremo e quel giorno è arrivato e ci siamo messi giù. Poi ce n'è ancora tanta di roba da tirare fuori. Guarda che comunque Andrea, considera anche questo ulteriore aspetto, cioè preparazione rispetto a quello che appunto sarebbe potuto accadere e che poi è accaduto, quindi un secondo blocco e dall'altra parte azione immediata nel mettere in campo anche quei progetti, come hai appena detto tu, che magari si è sempre detto sì, poi lo faccio, eccetera, eccetera, in realtà bam, si è andati diretti nel volere andare a segno e sono sicuro che ancora avrete veramente tanto da fare. Uh sì, assolutamente. Anche perché ogni settimana, anche confrontandoci con voi, ci sono continui input, impulsi, ti danno, cioè abbiamo idee, cose, quindi anche troppo, nel senso si corre talmente tanto che non c'è il tempo di riuscire a gettare le basi concrete di un progetto che già ha in mente un'altra cosa, anche perché qui comunque andiamo verso l'estate, quindi adesso c'è tutto un po' il progettare nel momento in cui si potrà riaprire, quindi più tutto il resto che non vogliamo assolutamente abbandonare proprio perché ormai la strada è quella, non si tornerà comunque più indietro, neanche a palestra aperta. Cosa importante, appunto avete messo in campo anche tanta carne al fuoco, in realtà sono tante le azioni che avete messo in campo, in particolar modo nell'ultimo periodo, io non voglio spoilerare nulla, però ho ricevuto un reportino che riguardava gli ultimi 15 giorni di febbraio. Cosa è successo esattamente in questo periodo? Che cosa avete fatto? Che danni avete combinato? Allora, abbiamo fatto il nostro evento che noi facciamo sempre almeno 3-4 volte all'anno, l'evento dove presentiamo tutti i nuovi allenamenti e quant'altro, speravamo fino all'ultimo di non farlo online, ma ovviamente abbiamo dovuto cedere e l'abbiamo fatto via Zoom, quindi questa è già la prima cosa particolare perché non sapevamo se la gente avrebbe partecipato o no, ma abbiamo avuto 151, mi sembra, prenotazioni in 4 giorni e in questi 4 giorni abbiamo lavorato, abbiamo fatto 3 ore di lezioni al giorno contro le 8 ore che facevamo, le 6-8 ore che facevamo di norma, modalità un po' rimini wellness, casino, luci, colori, divertimento, quindi già la prima cosa particolare. Poi abbiamo voluto mettere in campo anche un'azione commerciale sempre per il discorso di vedere se le persone avevano intenzione di tornare in palestra, quindi abbiamo testato subito se erano, no, non lo so, devo vedere come va la situazione, oppure se invece erano, boh, appena si apre ci sono. Abbiamo fatto questa azione commerciale e abbiamo fatturato in maniera, dai, discreta, che ci ha un po' aiutato in questo periodo e siamo rimasti abbastanza sorpresi, quindi è andata abbastanza bene. Questa sorpresa anche mista a timidezza, perché in Italia ogni volta che si parla di soldi c'è sempre questo quasi, quasi, quasi non voglio dirlo, mi tengo umile, come se l'umiltà fosse commisurata. Allora ragazzi, io ricordo questa cosa. come? Non lo so se il nostro è tanto o poco, a noi ci ha fatto super contenti, so che potrebbero essere anche il doppio o il triplo, ci lavoriamo, però insomma non ci abbiamo scusato sopra. No, scherzi a parte, il risultato vostro è un ottimo risultato rispetto comunque alle azioni fatte, chiaramente per privacy io non posso dirlo se non lo dici tu, però ecco, fondamentalmente quando si superano, si arriva ad avere una chiusura a 5-0, tendenzialmente vuol dire che si è fatto qualcosa di buono, ecco, fondamentalmente. Assolutamente. Quindi partiamo da questo presupposto, specialmente quando tutto è legato a un unico evento ed è una cosa straordinaria, anche a club aperti per la maggior parte di quelli che sono le mentalità, i club, la gestione tradizionale, dove è quasi impensabile poter fatturare in un'unica giornata o in un unico periodo estremamente stretto, fuori dagli ordinari settembre, delle cifre importanti. Poi chiaramente, abbiamo già detto all'inizio, il club è di 400 metri quadri? Sì. Quindi siamo partiti da quello, quindi ripeto, i 5-0 sono qualcosa di straordinario, assolutamente straordinario, è fuori dal comune, ritornando specialmente al periodo che stiamo vivendo e con le trasformazioni e i cambiamenti costanti. L'hai detto poc'anzi pure tu, tutto insieme, ad un tratto ti sei ritrovata a dover fare, vi siete ritrovati a dover fare un'azione diversa da quella che avevate programmato, ovvero quest'evento normalmente lo fate in un certo modo, bam, si ricambia nuovamente tutto e si ritorna ancora una volta a dover fare azioni diverse. Altro aspetto positivo, avete testato, tastato il polso dei clienti, i clienti ci sono stati, erano lì e inoltre vi conosco abbastanza bene, nel senso siete le persone che continuano a spingere, quindi non credo che quella di febbraio sia stata l'ultima e l'unica azione che farete mai, in realtà state continuando, mi dicevate anche prima dell'inizio di questa registrazione appunto mi parlavate del fatto che state buttando via, state buttando fuori diversi programmi che stanno avendo anche un discreto appeal dal pubblico, quindi questo vuol dire che il lavoro fatto continua a spingere, spingere anche nella maniera corretta. Un'ultima domanda prima di lasciarci, ma qual è stata la più grande difficoltà che avete vissuto nel momento in cui avete deciso di agire in maniera diversa? Qual è stata quella difficoltà maggiore che avete vissuto? La più grande paura o difficoltà? Allora, la difficoltà è che già prima io e anche lui siamo dei tecnici perché nasciamo con lo sport, non siamo nati titolari, quindi nella normalità seguivamo i nostri corsi, tutto ben benino e abbastanza calmi. Quando è successo il Finimondo io mi sono sentita insieme a lui un po' traballante perché non ancora sviluppata come titolare, come imprenditore, la difficoltà era proprio la velocità con cui le cose stavano cambiando e la velocità con cui bisognava fare delle azioni e la mia preparazione non era tale da poterlo fare da sola, quindi io proprio ho sentito la necessità di avere dei tutor perché era impensabile per me riuscire a fare quello che abbiamo fatto da sola, quindi la difficoltà iniziale è stata proprio quella di mettere giù per iscritto cose da fare e decidere ok, facciamo questo, questo, questo senza farsi prendere dal panico. Di panico sicuramente è un periodo in cui ce ne potrebbe essere anche tanto, ci sono stati dei momenti in cui avete anche solo pensato basta, mollo tutto? No, no, no. Dice sempre a testa alta, sempre fine in fondo. Ma sì dai, ho detto io non vivo per lavorare, nel senso a oggi finalmente, ho capito che bisogna cercare di lavorare per poi stare bene, quindi ho pensato io ci metto tutto, tutto, ci mettiamo tutto, quindi studiamo, facciamo, se poi ci troviamo che in Italia non ci sono più palestre perché hanno deciso che le palestre tutte chiuderanno per sempre, andrò a lavorare un agriturismo, non lo so, però fino a che le palestre possano aprire ce la metteremo tutta. Fino all'ultimo briciolo di energia in corpo la utilizzerò per continuare quello che poi alla fine è il vostro sogno, cioè nel senso che da un certo punto di vista poi avete deciso di rilevare appunto il centro dove siete per appunto creare la vostra realtà, continuare e far crescere quella che è la vostra realtà. Dire il vero credo che avete tutte le carte in regola sicuramente avete palle abbastanza da poter vendere perché il coraggio non vi manca ma soprattutto anche la determinazione. Ripeto, i risultati raggiunti a oggi sono davvero degni di nota e per questo voglio farvi anche i più sentiti complimenti, non solo da parte mia ma a tutto il team di Richfit ed è per questo che ho avuto anche il piacere di avervi appunto qui oggi in questa intervista che andrà rilasciata per l'appunto in tutti i nostri canali per far vedere anche agli imprenditori, vostri colleghi come in realtà sia possibile. Non è facile, non è semplice ma non è neanche impossibile e soprattutto è vero che esistono i blocchi forzati ma non dobbiamo morire o aspettare che qualcosa arrivi dall'alto. Quindi grazie per la disponibilità e complimenti per ognuno dei risultati raggiunti e soprattutto di quelli che raggiungerete. In bocca al lupo per tutto ragazzi. Viva il lupo. Bene ragazzi allora ci vediamo alla prossima e alla prossima intervista. Un abbraccio, ciao a tutti. Grazie a tutti.